L'approccio esplorativo e operativo del sussidiario Scopriamo il mondo accompagna passo passo gli alunni nell'apprendimento delle conoscenze, nella scoperta delle strategie di studio e nell'accensione delle competenze. Per ogni disciplina l'opera propone un volume e un quaderno degli esercizi perfettamente integrato. Ogni unità si articola in un percorso a spirale che parte dai saperi di base per approfondirli, studiarli, verificarli e poi ripartire verso l'argomento successivo. Il metodo di studio accompagna passo passo i contenuti attraverso strategie diversificate puntualmente spiegate. Completano il progetto l'Atlante, i quaderni delle mappe e un fascicolo dedicato all'educazione civica per sviluppare le competenze di cittadinanza con grande attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Grazie all'applicazione HubKids potrai anche facilmente consultare il libro digitale e accedere alle numerose risorse multimediali pensate per te e per i tuoi alunni. Le immagini di apertura prendono vita nelle numerose animazioni che mirano a catturare l'interesse dei bambini, alle quali si aggiungono video dedicati alle singole discipline. Sono inoltre disponibili gli audi integrali di tutte le letture, vari pdf di approfondimento e utili mappe concettuali per lo studio e per il ripasso. Se cerchi strumenti e soluzioni digitali per integrare la tua didattica, allora la piattaforma Hub Scuola è l'ambiente giusto per te. Sul canale YouTube potrai consultare i video di tutta la produzione editoriale, suddivisi in playlist. Il docente può trovare ulteriori contenuti e spunti originali sul Campus Primaria, il portale disciplinare che raccoglie numerosi materiali per l'aggiornamento e suggerimenti per la didattica. La piattaforma Hub Scuola, infine, comprende anche Hub Test, un ambiente che permette di creare verifiche personalizzate, ed infine, grazie ad Hub Smart, potrai consultare video, audio e test direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e veloce.